Ciao ragazzi, oggi è il valore del ricongiungimento. Sentiamo cosa ci dice. Il valore del ricongiungimento è figlio dell'unità unita al contatto, a significare che ricongiungersi è atto di connessione verso il centro d'amore. Suono. Stabilisco il contatto nel centro del cuore. Luce. Come occhi che si riconoscono nello sguardo. Colore. Saldo nel punto di fusione. Vibrazione. Riconosco l'incontro di anime. Azione. Abbraccio l'amore ritrovato. Ecco il simbolo del ricongiungimento. Ok, lo vedete? Ed è il simbolo con il cerchio dell'amore e dentro ha un altro cerchio sempre di amore un po' più chiaro, come colore, con dentro tante stelle a tre punte dell'intelligenza e del contatto. Quindi questo valore del ricongiungimento ha in sé che cosa? Il contatto nell'amore. E così quando un coniuge si ricongiunge ad un altro, magari uno di quelli che arrivano in Italia come migrante e non vede l'ora di potersi ricongiungere con il proprio marito o la propria moglie. Dunque c'è sempre il cuore in mezzo al ricongiungimento. È un fatto affettivo. E lo sentite come bello quando i due si ricongiungono e ritrovano quella unità essenziale che è data proprio dal cerchio dell'amore e dal cerchio azzurro al centro. Bene. Allora su animaribele.org trovate questi valori e su fraternity.it la lettura del sottile. Sì, sì, sì.